Dove c'è scritto? C'è scritto 2000 sul foglio, non c'è scritto Volumers, perché la Lancia 3V2000 c'è, ha 5.000 euro in Germania, col Volumers, che monta il Volumers, 5.000 euro, in Germania te la danno, 5.000 euro, andate a vedere, non c'è scritto Volumers nel libretto, c'è scritto Volumers, c'è scritto Lancia 3V2000, Volumers, Volumers, ok, Vol 2000, il 2000, il 2000 con il compressore volumetrico, Volumers, Volumers cos'è, con la patacca Abarth sul cerchio, dai, non sono scemo, non c'è la patacca Abarth, il marchio Lancia, è stradale, dai, su, è una macchina stradale, c'è il marchio Lancia, non è modificata, chi le ha fatte le modifiche? Era modificata? Chi è che l'ha modificata? La macchina? Se lasceva, come dicevate voi, con due, cosa correvano con i sedili posteriori di pelle? La macchina è riverniciata ed è tutta rifoderata, è pienamente restaurata, capito? Io, insomma, il motore è completamente muore, è una macchina fatta adesso, è una macchina rivista completamente, che avrà un valore eccezionale, puoi comprare dieci appartamenti, non lo metti in dubbio, ma è una cironata. Questa macchina è una cironata, ok? E sapete tutti di chi sto parlando, questa macchina è una cironata, contestatemelo, è una cironata, è una macchina rivista, restaurata, profondamente, nella scocca, nel telaio e nel motore, tutto e per tutto, e basta, raccontare le balle alla gente, è una macchina restaurata, rivista in tutto e per tutto, ok? Poi, per chiarità, ne hanno fatta una dove? Fammi vedere le documentazioni, io ci credo, questa è l'unica, non è l'unica, è una mezza, ne hanno fatta solo questa, hanno fatto su questa, è una macchina che vale un milione di euro, va bene? Vale un milione, non sto contestando il prodotto, il prodotto è eccezionale, è un prodotto super, è un prodotto in estina, è una Rolls Royce, è la macchina, è il sultano del Brunei con le di mura dorata, ecco, è quella lì, sono geloso e invidioso, dimmelo pure, però tu mi devi far vedere dove è il cambio corse, fammi vedere dove è la famosa scuderia, fammela vedere, e poi mi devi dire perché vale un milione, perché io l'ho trovata a 5.000 euro, la 2.000, capito? Senza scritta Volumex, senza la scritta 2.000, cos'è Ucraina? Cos'è corre per Zelensky?